più di 600 tonnellate di rifiuti rimosse nel giro di un mese è terminata con successo la bonifica di via collatina vecchia il degrado e l'abbandono avevano trasformato in una discarica a cielo aperto l'area verde di fronte alla stazione palmiro togliatti rendendola peraltro terreno fertile per i frequenti incendi che spesso avevano già impedito la realizzazione dell'opera di bonifica ora però l'intervento di ama ha eliminato i disagi genici e logistici che l'accumulo di rifiuti portava con sé ripulendo la zona da tutti i materiali ingombranti che lo occupavano grazie ad un'operazione in extra tari finanziata quindi direttamente da roma capitale dal valore di 500 mila euro l'intervento si aggiunge ad una lunga lista di bonifiche realizzate e programmate in oltre 175 aree degradate della capitale per un costo totale di 5 milioni di euro un'operazione in extra tari finanziata per un'operazione in extra tari finanziata